Musica E' la 64esima edizione della mostra Mercato dei Fiori e delle piante ornamentali e un appuntamento che a Pesaro è molto atteso, molto sentito tant'è che già oggi che è il 4 ottobre, giorno in cui inizia sempre da 64 edizioni questo appuntamento dicevo giorno che già i cittadini si sono riversati qui in Piazza del Popolo è un appuntamento a cui abbiamo dedicato la nostra attenzione perché è una di quelle feste anche e di quegli appuntamenti che ormai ci sono ripetuti, storicizzati e quindi è un momento atteso da tutta la cittadinanza Grazie